Nell'ambito dell'operazione di pulizia denominata Trinacria, i poliziottele volanti hanno effettuato un servizio di controllo del territorio con particolare attenzione nelle zone di via Teale 103 di via Mordini, dove erano stati rimossi due cancelli legalmente costruiti. Hanno identificato 37 persone, controllato 667 veicoli con e senza apparecchiature elettroniche ed elevato 5 sanzioni amministrative. In tale contesto operativo, gli investigatori della squadra mobile, nel proseguo dell'attività di contrasto alle piazze dello spaccio, hanno arrestato Tullio Caia, 35 anni, per il reato di detenzione e fine di spaccio di droga. L'uomo, in atto sottoposto all'obbligo di dimora, è stato affermato che operatore di pulizia nei pressi di via Teale 103. E così ha palesato un certo nervosismo che ha indotto gli agenti a operare una perquisizione che ha consentito il rinvenire e sequestrare in uno zaino 50 dosi di cocaina e 250 dosi di marijuana. Gli agenti alle volanti hanno così denunciato un uomo per aver violato le limitazioni della libertà personale a cui è sottoposto una giovane promessa custode di un motociclo sottoposto a fermo amministrativo. E sempre la giornata di ieri, i poliziotti alle volanti sono intervenuti per una rapina consumata all'interno dell'area di servizio di Siracusa Nord, dove poco prima due individui con volto travisato, dopo aver minacciato un dipendente addetto ai carburanti, si sono fatti consegnare la somma di 1.700 euro. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno arrestato il siracusano Giuseppe Pilade di 28 anni disoccupato con precedenti polizia. È stato individuato a quale responsabile della rapina consumata nella serata scorsa ai danni di un'anziana signora di Floridia a cui il malvivente ha strappato al collo una collalina d'argento. L'episodio si è verificato nelle vie centrali di Floridia e nella circostanza la vittima della rapina, avendo provato a resistere all'aggressione, è stata scaraverantata per terra dal malvivente, riportando un forte shock e evidenti segni sul collo causati dallo strappo della collana. Le immediate indagini da parte dei militari dell'arma, che seppur con scarne informazioni raccolte, sono riusciti a rintracciare Pilade e dopo un breve inseguimento lo hanno fermato e arrestato. Gli stessi carabinieri sono riusciti a recuperare anche il bottino della rapina.